11 maggio 2023 a Marta Flavia ha parlato della sua vita privata al chi settimanale Ho così tanti pretendenti, ma se la chimica non inizia, c'è poco che posso fare, ha detto il presentatore di 72 anni, a cui manca amore si trova sempre il sesso, anche nella vecchiaia Ma io sono non per una notte, non mi piace e non è abbastanza per me Appartengo a quella categoria di donne che, dopo tre volte di dormire con qualcuno, sono già innamorate Voglio farlo, nessuno me lo toglie dalla mente il tormento di Lino Banfi dopo la morte di sua moglie in breve, Flavia ancora alla ricerca di vera storia d'amore Ma pensa affatto al matrimonio sono tagliato più per una ragazza che moglie, perché piace il gioco della seduzione Ma allo stesso tempo mi piace sentirti libero, avere i miei spazi di solitudine, essere indipendente e proprietario della mia vita appunto allo stesso tempo per il presentatore è così pesante da solo non ho più ormoni a 2000 Quindi come se butti via la finestra se vedo nessuno Solo se hai problemi mentali vasco rossi, parole molto pesanti inoltre, Flavia ha confidato il suo metodo per uscire da relazione che non la convince più Ho una tecnica infallibile, la cena da Dio.Ti vesti carino, prepara bella cena Metti bene il tavolo e alla fine dici ti amo come un padre fratello figlio a seconda della tua età Appunto a quel punto sarà lui a voler chiudere